Nome? Lorenzo de Guillo. Ruolo? Macellaio a cuoco. Hai sempre voluto essere un cuoco? Beh, fin da piccolo ho sempre avuto questa passione. Chi ti ha influenzato? Beh, sicuramente i miei amici, ho molti amici cuochi e mi hanno dato una grossa mano in questo. Qual è la cosa che preferisci preparare? La carne, senza dubbio. Qual è la cosa che proprio non ti piace preparare? Ultimamente cucino di tutto. Lorenzo, tu che sei un cuoco, un piatto giallorosso? Eh, un piatto giallorosso potrei suggerire gnocchi di patate e pomodoro, semplice ma buono.